Luciano Lapenna, tutto regolare negli appalti relativi, anzi nell'appalto relativo agli spettacoli del 2013? Ancora una volta, si è fatto un percorso che sicuramente nei nostri confronti ci ha molto danneggiato, sbattuti in prima pagina, quando noi ad oggi, come ho più volte ripetuto, non abbiamo avuto manco l'avviso di garanzia. Non abbiamo avuto la conclusione delle indagini, si è fatto quindi un'operazione che io definirei per noi, voglio dire, molto pesante. Come è stato detto, non è la prima volta che mi trovo sottoposto ad indagini della magistratura, in questi anni ne ho avute tantissime di esposte e di denunce che abbiamo sempre affrontato anche nelle aule giudiziarie. Faremo anche qui la stessa cosa, fiduciosi sicuramente di aver operato con, come si dice, la coscienza apposta. Tra l'altro stiamo discutendo di un presunto abuso d'ufficio, signori. Il Consiglio ha dimostrato come sono andati i fatti, ma soprattutto, se posso dare una conclusione, erano venuti, come si dice, per suonare e ne escono un po' suonati. Il Consiglio ha evidenziato comunque una posizione differente all'interno delle opposizioni. Posizioni attenta sicuramente a non fare processi da una parte, posizioni invece che voleva assolutamente, già oggi, la condanna definitiva nei confronti nostri. Quindi le conclusioni sono state conclusioni che mi sembra abbiano ridato un po' il segno di come stanno le cose. Ha consentito a noi di poter dire un po' poche cose rispetto alla vicenda, proprio perché è guai a noi entrare in questo momento anche per rispetto nei confronti dell'autorità giudiziaria. Certo che, lo abbiamo detto, alcuni di questi grandi soloni oggi che siedono nel nostro Consiglio, spiace dover dire che ci si appunta, vedono, voglio dire, la pagliuzza se possiamo parlare di questo con un procedimento che comunque per noi è devastante sempre, però poi quando andiamo a vedere quello che succede in quei comuni, soprattutto a Cinque Stelle, è la situazione là, nessuno ne vuole parlare, basta discutere di quello che sta succedendo in questi giorni. Non dico solo a Roma, ma dico anche in tantissime altre amministrazioni dove fioccano gli avvisi di garanzia, ma non se ne mette nessuno. Ecco, l'opposizione contesta il carattere della straordinarietà di questo Consiglio Comunale, dicono che lo avete convocato o fatto convocare attorno a Ferragosto per farlo passare inosservato, è vero questo? Perché oggi la presenza del pubblico, la presenza delle televisioni, non è vero che noi volevamo far passare questo Consiglio sotto toni, io prima l'ho detto, volevo la partecipazione che poi abbiamo avuto. La verità è questa, è che sono contraddittori, da una parte volevano il Consiglio Comunale, però dall'altro lato urlano se noi decidiamo subito di fare il Consiglio Comunale e vanno alla ricerca del cavillo del regolamento per poter dire non è urgente ma è solo straordinario e quindi viene leso. Quale diritto è stato lesse alle minoranze? Non so quale diritto, penso nessun diritto. Volevano chiarimenti, volevano parlare e far parlare vasto di questo fatto, credo ci sono riusciti. Spero che noi abbiamo dato una versione quantomeno veritiera dei fatti, tranquilla, al di là di chi invece è convinto che noi siamo dei presunti colpevoli.